Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video oggi per spiegare un po' a tutti gli iscritti al canale, a chi mi segue, a chi guarda i miei video, quello che è successo negli ultimi giorni. Come molti di voi sanno, anch'io sono stato vittima della censura di YouTube che ha deciso di eliminare completamente la sezione dei documentari che avevo iniziato a doppiare o a sottotitolare. Era naturalmente materiale non mio, era materiale di Russia Today RT che come forse sapete tutti in occidente è stata censurata, è stata di fatto proibita, così come il suo materiale. Quindi YouTube ha censurato questi video, li ha eliminati, addirittura ha eliminato la seconda parte del documentario dei bambini del Donbass che doveva uscire ieri, l'ho fatto uscire su altri canali che adesso vi dirò, che era un video programmato, quindi nemmeno ancora pubblicato. Bene, questa scelta fatta da YouTube in questo momento per me è significativa perché l'intento non è naturalmente solo quello di isolare il canale, quello di eliminare dei contenuti non graditi, ma soprattutto quello di limitare la diffusione del canale, del mio canale, di canali come il mio, di quel tipo di materiale, perché l'algoritmo di YouTube sceglie di promuovere, quindi di mettere nella pagina iniziale del sito o di suggerire come video i video dei canali che hanno un certo numero di visualizzazioni, un certo numero di mi piace e un certo numero di iscritti e quindi ora che il canale stava crescendo è arrivata questa decisione di YouTube, molto probabilmente proprio per evitare che questi video fossero messi tra i video consigliati o in home page di YouTube. Per rimediare almeno parzialmente a questa censura ho aperto altri due nuovi canali, uno sul sito Odyssey che è un sito simile a YouTube e un canale Telegram dedicato solo ai contenuti video. Per il momento sul canale Telegram e sul canale Odyssey metterò soltanto i contenuti che avrebbero dovuto essere pubblicati nella sezione documentari del canale YouTube, proprio per evitare la censura. Il resto dei video, quindi i reportage, le interviste e i video 100% fatti da me continueranno ad essere pubblicati sul canale YouTube. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio soprattutto per esservi iscritti al canale e seguire il lavoro che sto facendo. Ciao a tutti!